ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale io sono francesco riusci e sono giovane professionista di tennis in questo momento sto parlando con un microfono da più vicino questo perché non si sentirà nulla però stiamo andando a giocare un nuovo torneo e adesso vi svelerò dove ok siamo appena arrivati nel taxi vedete stupendo c'è il rischio adesso lui si è fermato a comprare qualcosa e c'è il rischio di fare il bot ogni 3x2 sono veramente pericolosissimi e spero di arrivare almeno al resort buongiorno a tutti ragazzi eccoci qui in questo primo giorno in questo momento stiamo andando a fare una piccola seduta in palestra un po di posture cose molto semplici perché alle 11 e mezza abbiamo il campo quindi abbiamo a disposizione un'ora e poi andremo a giocare nel frattempo che porterò anche all'interno di questo villaggio come presentazione diciamo infatti la mia idea era quella di creare più contenuti in queste settimane e portarvi di più all'interno di queste giornate di routine fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate se preferite un unico contenuto o magari tanti altri ok ragazzi finita questa prima parte di diciamo attivazione e anche perché comunque dopo il viaggio di ieri che è durato veramente tanto ci abbiamo una cosa che è stata messa anni anni fa è stato un viaggio molto lungo siamo partiti alle otto e mezza da casa e siamo arrivati alle sette e mezza di sera tra spostamenti a roma aereo e poi l'arrivo in questo posto sono state di circa due ore ci aveva messo un po quindi era giusto fare questa mattina un allenamento di riattivazione fisico quindi un po di stretching posture adesso andiamo a giocare un po questa mattina e poi a riallenarci nel pomeriggio tutto ciò adesso vi farò vedere un po tutta la passeggiata che andremo a fare per arrivare ai campi perché vi ricordo che siamo in un resort davvero molto grande è totalmente vuoto non si sa come faccia ad andare avanti io mi auguro che comunque con questo po di vento si riesca a sentire tutto e nulla siamo in questo posto totalmente vuoto in questo momento ci siamo soltanto io e il mio compagno di stanza per oggi perché siamo arrivati due giorni prima è dura frate è dura buongiorno a tutti ragazzi siamo al secondo giorno e stiamo andando ad allenarci in questo momento è ufficialmente iniziato il torneo adesso c'è un aereo che passa sopra proprio adesso e quest'oggi non giochiamo perché abbiamo il buy quindi siamo un turno avanti essendo test di serie e quindi ci siamo allenati questa mattina già una mezz'oretta abbiamo scaldato il nostro compagno di stanza che gioca alle 4 magari dopo andremo anche a vederlo e andremo a vedere anche i miei avversari di domani inoltre sto andando a giocare adesso un'oretta con un ragazzo brasiliano italo-brasiliano e nulla questa mattina classica mattina dove abbiamo fatto colazione ora c'è un po' di vento ovviamente diciamo che la colazione non è male qui alla fine mi sono portato alla casa la nutella e quindi si riesce a fare un po' di tutto no però comunque il latte caldo cereali tutte queste cose così ci sono in più sto prendendo tutti i giorni dei prodotti della forever living che stiamo diciamo trattando magari fateci sapere qui sotto nei commenti se volete alcune informazioni io vi lascio anche il mio account di instagram dove posso darvi qualsiasi tipo di informazione in questo momento sto prendendo un multivitaminico dove due compresse al giorno sono pari al 100% del fabbisogno di ognuno di noi quindi diciamo non male le sto prendendo ormai già da un po' e quindi questo quindi ora andiamo ad allenarci giocheremo soltanto la mattina e poi basta poi andremo a vedere un po' di partite cercheremo di incordare di lavare dei panni vi farò vedere come si lavano i panni durante i tornei e poi nulla cena e si riprogramma la giornata successiva è il giorno del match e stiamo andando a scaldarci ci scaldiamo le 9 una mezz'oretta e giochiamo secondo match dalle 10 il match primo del nostro sono due italiani quindi andremo anche a vederli un po' per seguire e capire anche quando scaldarci e nulla fatto colazione poi dopo la parte diciamo di riscaldamento torniamo in camera e facciamo anche un quadro su come organizzare pianificare questa questa partita e andiamo ciao 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 c'està or 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Sì Sì Allora ragazzi, grazie mille per essere arrivati a guardare questo video fin qui E io vi ricordo che il 60% di voi che guarda i miei video non è ancora iscritto al canale Mi raccomando fatelo, a voi davvero non costa nulla A me dareste davvero una grande mano A me darei 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 Mi auguro che questo video vi sia piaciuto Io vi aspetto tutti i martedì alle 21 Ciao A me darei A me darei A me darei A me darei